Si sono conclusi i lavori di adeguamento funzionale del Parco Ventaglieri alla Pigna Secca e da questa mattina hanno aperto al pubblico gli impianti meccanizzati che collegano la parte bassa della struttura con quella di via Avellino a Tarsia, 10 scale mobili e un ascensore elettrico che oltre a migliorare la fruibilità delle aree verdi collegano in maniera strategica la stazione Salvatore Rosa della linea 1 della metropolitana allo snodo di Montesanto che già comprende linea 2 funicolare, cumana e circunflegrea. Tutto questo parco vive già da tempo grazie a un lavoro della cooperativa 25 giugno, del personale, delle associazioni e dei cittadini. Con oggi abbiamo raggiunto un obiettivo sofferto ma fortemente voluto dalla città, quello di dotare questo parco che è unico anche nel suo dislivello di un ascensore delle scale mobili, quindi potrà essere vissuto ancora di più e questo è il modo per far vivere bene la nostra città, in questo caso il cuore di Napoli, dalla Pignasecca verso su. Il parco Ventaglieri, un antico terrazzamento sovrastante il costone Tufaceo di via Avellino a Tarsia, fu realizzato all'inizio degli anni 90 e trasformato in luogo di aggregazione mediante il consolidamento e il recupero di una serie di ruderi esistenti. Oltre alla ristrutturazione, le opere eseguite hanno riguardato il rifacimento e la messa a norma degli impianti elettrici, la rifunzionalizzazione del collegamento tra i due livelli della struttura, sistemazione delle scale e realizzazione dell'ascensore e l'individuazione degli spazi di servizio. Presenti questa mattina, oltre al sindaco De Magistris, anche i vertici della metropolitana di Napoli, alla quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori e dell'ANM, che si occuperà invece della gestione e manutenzione degli impianti. C'è un grande sforzo e la cosa che più mi fa piacere è che vedo la città contenta quando si fanno anche piccole cose come queste, che non sono grandi cose, però sono quelle cose che fanno vivere meglio le persone di un quartiere. Oggi è pigna secca, domani potrà essere un altro. E questo è quello che faremo nei prossimi giorni. Sono orgoglioso del fatto che noi nei primi sei mesi del 2014 abbiamo immesso un miliardo di euro nella città di Napoli, che sono andati nelle casse dei creditori, degli operatori. C'è il risanamento della città di Napoli, sta significando economia e lavoro.